Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo video, oggi siamo qua con un video un po' particolare perché non ho sempre fatto video esclusivamente su iPhone e sui successori ma ho provato anche altri prodotti del mondo della tecnologia e questa volta siamo qua per provare un microfono a condensazione USB della Tonor, il modello Q9 che ha un prezzo di 59,90€ al momento attuale su Amazon trovate comunque sempre il link in descrizione del prodotto due anni di garanzia offerti dall'azienda ma che poi in realtà i due anni di garanzia sappiamo bene che i 24 mesi sono per tutti a livello europeo è un microfono di fascia medio-bassa ovvero è un microfono che non è a livello di un Blue Yeti o di un Samsung Meteor che è quel microfono che utilizzavo prima del Blue Yeti quindi di conseguenza non andiamo nella fascia alta, non è neanche un Comica che è uno dei prodotti che ho utilizzato e sto utilizzando oggi stesso per registrare questo video e quindi la parte dell'audio però posso dirvi che comunque sia il prodotto non è male l'ho potuto provare e ho potuto ritenere che il prodotto sia di ottima fattura ora che raggiunga livelli atroci non è assolutamente vero perché infatti il prodotto non è che ha una qualità così eccelsa perché parliamo sempre di plastica però nella sua semplicità perché d'altronde è molto semplice da utilizzare e soprattutto il vantaggio migliore che ha questo prodotto è che comprando a 59€ avrete modo di avere tutto il kit per poterlo attaccare alla vostra scrivania quindi non è una cosa da sottovalutare perché sì il microfono costa 60€ ma 60€ tenendo conto che c'è la staffa, il porta microfono, il cavetto e tutto il prezzo in realtà del microfono gira attorno ai 30€ togliendo il prezzo normale di uno stativo per tenere un microfono della New Wear quindi teniamo conto che abbia un valore attorno ai 30€ allora il microfono a condensatore con modello polare cardioide quindi la parte che gestisce il campionamento dell'audio quindi dell'audio in ingresso ha una velocità in bit di 16 bit e una risposta in frequenza di 20 Hz che non sono male per un microfono da utilizzare per parlare per registrare dei video per YouTube che ovviamente non vanno a implicare la parte professionale ma prima di tutto vogliamo vedere cosa c'è al suo interno così vediamo insieme cosa ci viene fornito io l'ho già provato quindi se vedete che non ci sono più le plastichine è normale troviamo al suo interno il pop filter fra l'altro è una cosa che normalmente non si trova in giro quindi il pop filter è una cosa che si compra a parte il pop filter in breve è un filtro che serve ad evitare che quando noi parliamo magari banalmente sputiamo un po' di saliva lui fa da deviatore quindi fa da filtro per l'appunto ed evita di avere quel rumore sull'audio che dà un po' fastidio se si vogliono fare video a livello professionale e non perché posso dirvi che la differenza si nota e non poco una manualistica che ahimè per quanto Tonor ci manda purtroppo diciamo che rimette quello che c'è scritto nella descrizione del prodotto sulla scatola l'unico problema è che fa vedere delle immagini di macOS un po' vecchia infatti parliamo di macOS veramente di anni e anni fa quindi magari un aggiornamento del libretto si potrebbe anche fare oltre a questo cosa troviamo? allora il porta microfono che viene utilizzato per essere messo sullo stativo un normale porta microfono che fra l'altro funziona davvero molto bene seppur parliamo comunque sia di plastica cioè non parliamo di prodotto in alluminio o qualità premium ovvio che se ci attaccate un bluiete qui a parte che non ci sta ma fate cadere tutto e si spacca tutto quindi evitate abbiamo la staffa che è una normalissima staffa che si può utilizzare anche per connettere altri microfoni come ad esempio il bluiete stesso io citerò molte volte bluiete perché ormai ce l'ho da circa 10 anni quasi e funziona davvero molto bene ingresso per poter attaccare il porta microfono e poi il normale ingresso per poter attaccare la staffa alla scrivania e avete modo di inclinarlo quindi si può tranquillamente inclinare adesso non so se si vede bene e poi avete modo comunque sia di regolare la chiusura quindi l'angolo di chiusura del microfono in base a come lo volete posizionare oltre a questo troviamo anche il microfono che vi dicevo prima a condensazione che è quello che è altro importante è un microfono che c'è da dire una cosa molto fondamentale come dicevo prima è plastica quindi non vi aspettate qualità premium però personalmente preferisco che l'azienda si concentri più sul prodotto lato realizzativo quindi di qualità audio rispetto ai materiali perché i materiali per aumentare quella qualità di questi materiali qua bisogna aumentare di prezzo e si raggiungono cifre molto consensenti considerevoli e poi c'è da tener conto che comunque sia un bluiete si trova attorno ai 100-120 euro quindi non possono alzare più di tanto il prezzo le funzionalità sono molto basiche nel senso che potete alzare e abbassare il volume e avete la possibilità di tenere premuto il più o il meno per qualche secondo per disattivare l'audio e si noterà da un led blu per quanto riguarda l'ingresso è un ingresso normale usb che però è quello molto simile a quello della stampante quindi non so se avete una stampante un po' vecchiotta l'ingresso è quello comunque sia ci viene fornito dall'azienda tutto il necessario c'è anche un filtro che è un normale gatto morto come si potrebbe chiamare nel gergo tecnico il gatto morto non serve altro che coprire il microfono e svolgere la stessa funzione del pop filter se volete evitare di utilizzare il pop filter ma volete utilizzare solamente il gatto morto potete tranquillamente farlo è semplicemente un filtro che si aggiunge a quello che già avreste la staffa che è quella che vi dicevo dove viene inserito il pianale dove tiene il microfono e poi questa qua girando in modo orario per svitarla e poi anti orario per avvitarla avete modo di attaccare la scrivania dopodiché una volta che è inserita qua dentro l'ingresso della staffa viene chiusa per tenerla stretta e così avete montato il microfono l'ultimo accessorio invece è riguardante alla dotazione USB come vi dicevo prima un normalissimo USB A che tra l'altro è in qualità davvero mediocre perché comunque parliamo neanche di 3.0 ma di qualità 2.0 un po' vecchiotta e l'ingresso che vi dicevo prima della famosa stampante quindi nulla di particolarmente professionale ora in questo momento vi farò vedere delle immagini del microfono montato sulla staffa quindi che sto utilizzando in questo momento e vi farò vedere una parte del microfono nella quale vi farò anche ascoltare l'audio registrato con questo microfono giusto per avere un'idea qualitativa su com'è il prodotto personalmente il microfono non è male perché comunque sia parliamo di una cifra attorno ai 60 euro ci tengo a precisare una cosa molto importante questo microfono qui lo potete acquistare a 60 euro ma tramite un coupon che trovate in descrizione avrete modo di accedere al sito o allo store chiamiamolo meglio di Tonor su Amazon e avrete il 10% di sconto su qualsiasi acquisto voi farete su questi microfoni qua dell'azienda quindi qualsiasi prodotto voi acquistate avrete il 10% di sconto così facendo al posto di pagarlo 60 euro lo pagate 54 euro che non è male è uno sconticino piccolino ma che poi 6 euro non fanno male vi comprate un 2-3 McFlurry al Mc Donald prova 1-2-3 prova sto provando a registrare l'audio con il microfono della Tonor un microfono da 59,99 euro che però mi sta dando delle ottime impressioni perché a livello qualitativo si sente davvero molto bene e soprattutto è direzionabile quindi avrete modo di direzionare anche l'input dell'audio è una traccia di pochi secondi che però fa capire come la qualità dell'audio del microfono Tamron Tonor sia di ottima qualità e di ottima fattura adesso proviamo con l'audio del microfono interno del MacBook Pro M1 di ultima generazione di ottima qualità perché viene utilizzato anche a livello professionale e vediamo come risponde un 2-3 prova sto provando il microfono in questo caso qua del MacBook Pro parliamo della versione M1 quindi l'ultima generazione, l'M1 Pro il MacBook riesce comunque ad offrire una qualità audio sicuramente superiore rispetto al Tonor lo capite anche dalla pulizia dell'audio dal fatto che comunque sia parliamo di un microfono interno di un computer e non è dotato sicuramente di pop filter o di gatto morto però complessivamente l'audio del MacBook è sicuramente più eccelso però questo vi fa anche capire come l'audio del microfono della Tonor per costare solamente 60 euro, 54 euro col coupon comunque riesce ad essere molto competitivo la qualità audio è molto eccelsa perché comunque sia parliamo di un microfono semi o bassa fascia quindi non è un prodotto eccelso a livello di qualità però riesce comunque sia ad offrire un audio molto pulito soprattutto per chi vuole iniziare su YouTube io ho provato il microfono anche in diverse situazioni quindi magari dove c'è un pochettino di frusceo di audio in più e si riesce tranquillamente a pulire in post produzione quindi a livello complessivo per chi vuole iniziare con YouTube è sicuramente un microfono molto professionale no ma di ottima fattura personalmente non mi metto neanche a confrontarlo con la Rode perché so sicuramente che c'è una differenza notevole ma per chi vuole utilizzarlo come dicevo prima per un utilizzo blando è sicuramente un microfono di ottima fattura e da tenerne conto perché ne vale la pena assolutamente per quanto mi riguarda l'audio è davvero ottimo e pulito vado alle ciance il microfono è di una qualità mediocre nel senso che è un ottimo microfono per chi vuole entrare a far parte di YouTube e fare video semi professionali ovviamente con l'aumentare della qualità bisogna senz'altro cambiare il microfono perché il microfono fa molto su YouTube posso assicurarvelo dopo tanti anni di esperienza la qualità video stesso ragionamento di conseguenza è un microfono entry level quindi un microfono per chi entra nel mondo di YouTube o comunque vuole fare video amatoriali se poi volesse passare al lato professionale sicuramente deve investire qualcosina in più però se volete un microfono per poter parlare su Skype su Discord se volete giocare banalmente può farlo tranquillamente senza assolutamente problemi l'audio è buono dall'altra parte ci sentono bene e senza grosse pretese cioè il microfono comunque sia il suo scopo principale lo fa e lo fa anche bene tenendo conto che poi viene inserito una staffa per poter attaccare il microfono un porta microfono direzionabile una staffa per poter appoggiare alla scrivania il microfono e poi vabbè il cavetto USB che è quello per forza ce lo devono dare nella sua complessività abbiamo tutto cioè assolutamente abbiamo tutto il materiale necessario per un corretto utilizzo di conseguenza spero che il video sia stato di vostro gradimento se lo è stato vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se già non l'avete fatto e ci vediamo prossimamente con un nuovo video vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per poter acquistare questo prodotto qui e avere lo sconto del 10% da inserire nei coupon inoltre ci vediamo prossimamente con un video che posso annunciarvi sarà riguardante il Divum che per chi conosce questa marca qua sa bene che arriverà un prodotto molto molto bello un saluto e alla prossima ciao a tutti